Nuova Mitsubishi Cold, tua da 149 euro al mese, con 5 anni di garanzia e 3 anni di assicurazione furto e incendio. Vieni a provarla nelle concessionarie Mitsubishi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Iniziamo questo nuovo appuntamento con i giornali in tv, con la prima pagina delle edizione Calabria del Quotidiano del Sud, che oggi parla di questo episodio di un incendio negli uffici di Ecolandia a Reggio Calabria. Presidio di legalità devastato dalle fiamme, scrive il Quotidiano del Sud. Ancora non c'è ufficialità sulle cause del logo al quartiere Arghillà di Reggio Calabria. Nel parco che accoglie le scuole e usa i beni confiscati per i concerti. Libri, pc, archivi in fumo, il Presidente pensa bene, bersagliati da furti e danneggiamenti, ma andiamo avanti. Apre così dunque oggi la nuova edizione di zona Calabria del Quotidiano del Sud. Anche in apertura quest'altra notizia il prof crotonese che insegna in Scozia «Lasciate le ONG libere di operare» Domenico Carolei al Parlamento europeo con un libro e una proposta «Difensore civico internazionale». A San Costantino c'è quest'altra storia, questa vicenda, San Costantino Calabro, siamo nel Vibonese. All'asta la casa del popolo che Enotrio regalò al suo paese. Poi Gioiosa Ionica, ambulanza tarda ed è senza medico, la denuncia di una madre. Poi Catanzaro verso il piano strutturale comunale, ultimo incontro di pianificazione. Andiamo a Reggio, Bandecchi inaugura la sede regionale di alternativa popolare a Reggio Calabria. Poi Vibbo Valencia, omicidio Belsito, il racconto dettagliato del pentito Mantella. Poi Crotone, bonifica sull'Escorio un nuovo comitato in campo. Poi Anoia, ancora cani seviziati e maltrattati nella piana di Gioia Tauro. Poi Sanità Catanzaro, è stato adottato il primo bilancio dell'azienda Dulbecco. Poi cerimonia il 17 aprile, premio Tajani. Il quotidiano oggi pubblica la terna dei vincitori del premio Tajani. Andiamo all'interno delle pagine del quotidiano, lo leggevamo in prima, è stato incendiato Ecolandia, danno incendi alla struttura, in fiamme gli uffici del parco. Il parco che accoglie le scuole e usa i beni confiscati per i concerti, un presidio di legalità che va preservato, dice il Presidente, pensa bene. Poi all'asta, anche questa l'avevamo letto nella prima pagina del quotidiano del sud, all'asta la casa del popolo che Enotrio regalò al suo paese. L'edificio di San Costantino a Vimbo è in vendita il 18 aprile, quell'artista gentile e generoso che seppe vedere la Calabria. Sempre sul quotidiano, ambulanza in ritardo e senza medico, a Gioiosa Ionica, la giovane comunque si è salvata, la madre ha deciso di denunciare la situazione, una ragazza disabile va in crisi, in mezzo l'ambulanza arriva dopo 40 minuti e senza medico. Anche qui è stato adottato il primo bilancio dell'azienda ospedaliera e universitaria, la Dulbecco, poi Franz Caruso, il Sindaco di Cosenza, continua la battaglia contro l'autonomia differenziata, alla mezzia, finanza e funzione educativa. Banca Etica ha incontrato i volontari del servizio civile Arci di La Mezzia, uno strumento innovativo per svelare il legame tra potere, denaro, legalità e povertà. A Reggio Calabria, ricerca e sviluppo, sarà presentato il bando regionale, il tour, il moderato Bandecchi a Cosenza. Sono un leader, poi il mio esempio, conferenza stampa del coordinatore di Alternativa Popolare. Giovani imprenditori, nuovo leader, appunto è stato eletto Rocco Salatto, che guiderà il Sud a Crotone, lasciate fuori le ONG, lasciate fare alle organizzazioni non governative il loro lavoro. L'intervista al professor Carolei, docente in una università scozzese. A Danoia ha ancora cani serviziati e maltrattati, quindi c'è un'escalation di questi casi. A Catanzaro, il piano strutturale comunale, si tirano le somme del lavoro in attesa del parere definitivo. Ultima tappa della pianificazione a Catanzaro del piano strutturale comunale. Andiamo ora alla Mezzia, leggiamo di questo fatto, di questa vicenda di cui si sta discutendo in questi giorni. con il taglio alberi, crescono i dubbi, Pane di Grano, Diamo la Mezzia, dicono che le radici dissestano i marciapiedi, scrive il presidente di Amo la Mezzia, Pane di Grano. E si contesta l'intervento su via Berlinguer, dove vengono abbattute le grandi acacie, i viali delle grandi acacie, poi panchina gialla per dire no al bullismo e cyberbullismo, questa panchina gialla sarà inaugurata l'11 aprile alla parrocchia San Giovanni Battista San Teofemia a la Mezzia. Poi Alemanno battezza la sede Lametina di indipendenza in movimento, operare da subito nelle realtà locali, appunto l'ex ministro Alemanno, che è anche segretario nazionale del partito indipendenza, ha inaugurato la nuova sede alla Mezzia. Crotone, il partito del pranzo completo, il segretario del PD, eccesso di protagonismo, rischio di sovrapporsi con la petizione. E ancora su Quotidiano del Sud, europei e comunali a Reggio Calabria, servono ingegneri della politica, dice Bandecchi, che ha incontrato Lillo Fodi, già presidente della Regina, Bandecchi è il segretario nazionale del partito Alternativa, Alternativa Popolare, che si presenta alle elezioni comunali europee. Vibbo Valencia, comune di Vibbo, tra app, lavori e servizio mensa, un assessorato travagliato, visto che si sono alternati ben quattro titolari. L'istruzione pubblica nella relazione di fine mandato del sindaco, positiva, l'azione svolta e servizi migliorati. Il ciclone Bandecchi a Vibbo, dal candidato all'europeo, contributo di 100 mila Euro alla Vibbonese, scrive il Quotidiano del Sud. Poi, omicidio Belsito, faceva parte della blacklist tra gli imputati in assise, l'esame del collaboratore Andrea Mantella sull'agguato, deciso dal clan Bonavota, supportato dal gruppo del pentito. Mi sono pentito anche dopo aver letto libri su Moro e Andreotti, dice Mantella. Domenico Bonavota era l'ala militare della Cosca. Mio cugino Salvatore sapeva tutto perché da sempre mi fidavo di lui. Onofrio Barbieri era un soldato dei Bonavota, eseguiva ciò che gli dicevano la vittima, appunto Domenico Belsito, fu ferita gravemente il 18 marzo del 2004 a Pizzo, espirò l'1 aprile successivo in ospedale. In Bonavota avevano scatenato la guerra ai rivali. Questa era l'ampia pagina che dedica a questo omicidio oggi il quotidiano del Sud. Ancora sul quotidiano, premio Tajani, la terna dei vincitori, terza edizione a vetri sul mare, anche un convegno con Gratteri, a Crotone, torna il grande jazz, arte, una mostra di ceramica racconta l'inclusione, le creazioni approderanno a Madrid. Bene, come sempre con il quotidiano abbiamo iniziato il nuovo appuntamento con il giornale di TV e lo concluderemo con lo sport sempre del quotidiano del Sud. Ora andiamo all'edizione Calabria di oggi di Gazzetta del Sud, in prima pagina, timori di Banca Italia sull'autonomia, nuova memoria consegnata al Parlamento, i tempi accelerati potrebbero sfavorire territori come la Calabria, nella legge un percorso automatico per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Reggio Calabria, gli uffici di Ecolandia distrutti da un ruogo, il Consorzio di certo resteremo nel parco, infiltrazioni negli enti, commissioni d'accesso e l'ora delle decisioni in provincia di Vibbo. da Gioia Tauro allo stretto un hub per il ponte e poi c'è una notizia che arriva da Fuscaldo, emergenza racket incendiato il camion di un'azienda. A Cosenza imprese pagate con grave ritardo, l'associazione costruttore di lancia un appello alle istituzioni. Poi Reggio Calabria, dicevamo delle notizie che arrivano anche dallo sport, poi comunque concluderemo perché oggi si parla della regina in alto sull'edizione Calabria di Gazzetta del Sud, però concluderemo, poi ne andremo a approfondire i temi con lo sport. Andiamo di spalla verso le regionali candidature, idem nel caos, ora un codice etico che varrà ovunque, a centro pagina, israeliani, parliamo della guerra in Medio Oriente, via dal sud di Gaza, incognita Iran, mentre attacchi russi devastanti, l'altra guerra, accorto di missili, la resistenza ucraina in grande difficoltà, e poi domani il documento economico-finanziario del governo, lo scoglio del debito e il conto salato del superbonus. Poi la morte del giornalista Purgatori, poteva essere salvato, dicono i medici legali, bastava una terapia antibiotica, poi di origini pugliesi i due carabinieri morti in un incidente nel Salernitano, una tragedia di cui oggi scrive Gazzetta del Sud. Scorriamo le pagine dall'Italia e dal mondo di Gazzetta, prima di andare alle pagine calabresi, Israele ritira le truppe dal sud della striscia di Gaza, poi Chieva a corto di missili, in grave difficoltà contro i devastanti bombardamenti russi, domani il DEF, documento economico-finanziario, l'incognita superbonus sul debito. E andiamo alle pagine calabresi di Gazzetta, a Monito Banca Italia sull'autonomia, quei dubbi sulla fretta del nord, scrive Gazzetta. Gazzetta e poi il porto di Gioia, Gioia Tauro, hub anche per il ponte, inclusione, ambiente e sicurezza si imparano pedalando, le imprese pagate sempre in ritardo, poi Calabria, la campagna elettorale, passa dai tribunali, la campagna elettorale di Gioia Tauro, scrive il Quotidale del Sud, la prescrizione per 30 imputati nel processo Waterfront, che ha coinvolto anche il marito della candidata a sindaco, Scarcele, il comune parte civile, Alessio, che è sindaco di Gioia Tauro, proseguiranno le richieste di risarcimento per i danni subiti. Poi ancora infiltrazione negli enti, è l'ora dei verdetti nel Vibonese, bonifica nell'area industriale a Crotone, il Tar di Catanzaro è il lago della Bilancia, ancora emergenza racket nel Tirreno Cosentino, scrive Gazzetta del Sud. Bene, dunque, dopo i quotidiani regionali, Gazzetta del Sud, Quotidiano del Sud, con cui abbiamo aperto questo nuovo appuntamento con i giornali TV, andiamo anche a passare rassegna a altri quotidiani, andiamo alla prima pagina di Calabria.live, i fondi in base ai malati cronici, serve questo alla sanità calabrese, il piano di calabria per la Calabria e il settore sanitario, perché è fatto per risparmiare soldi, ma deprime tutta l'economia, danneggiata dal prestito fatto dal governo nel 2011. Questa è l'analisi del Calabria.live, anche per quest'oggi, dunque siamo andati a dare uno sguardo alla prima pagina di calabria.live. Prima di passare ai titoli principali dei quotidiani nazionali, andiamo anche al sito illamettino.it, passiamo in rassegna a qualche notizia che troviamo sulla home dellamettino.it. Ecco qui, Lamezia, Occhiuto, in visita al cantiere dell'aeroporto di Lamezia, appunto il biglietto da visita della Regione. Poi è stato trovato morto in un canalone, un 75enne che era scomparso ad Aiello Calabro. E' ancora contrasto alla pesca di frodo, sequestrati 800 kg di novellame e sanzioni per 50 mila Euro nel Cosentino. Poi alla Lamezia, arriva una segnalazione, rifiuti sanitari sulla riva in zona Cafarone. Sempre a Lamezia, cresce l'attesa per l'inizio delle riprese della serie Sandokan con Jean Yaman, iniziati i casting all'area industriale di Lamezia Terme. Bene, questo era appunto sullamettino.it. Andiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali, prima di concludere con lo sport. Corriere della Sera, Israele ritiro dal sud di Gaza, La Repubblica, Schlein, Basta Correnti, La Stampa, Israele prepara l'assalto a Rafah. Poi andiamo al Libero, Voglia di Bavaglio, il PD vuole decidere la scaletta del Tg1, il giornale Salvini spiega il decreto Salva Casa. Il Fatto Quotidiano, Schlein decida, cambi il PD o il vecchio PD cambierà lei. Intervista a Giuseppe Conte. Poi la verità, leggiamo questa notizia, le indrine mettevano le mani sulle grandi opere, grazie al PD. E poi il messaggero, Gaza, la ritirata di Israele, domani Conte vuole fare pace, ma dopo il voto, ma nel PD hanno perso la pazienza. Il sole 24 ore, rischi climatici, programmi in ritardo, andiamo anche al Gazzettino, Gaza la ritirata di Israele, il mattino Israele ritira le truppe di terra, andiamo al secolo XIX, Israele anche qui lascia il sud di Gaza, il resto del cardino, caos PD, stop agli impresentabili in lista. Andiamo al quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia, la rabbia della pancia, scioglie il campo largo, la discussione, Israele nel sud della striscia, solo una brigata, proteste anti Netanyahu, elezioni subito. Bene, concludiamo con lo sport, andiamo ai quotidiani sportivi nazionali, prima scatto felino, titola Gazzetta dello Sport, Gatti, gol, e la Juve brinda la Champions, poi sul core dello sport, Gatti da pelare, prima domina la Juve, poi soffre, ma la Juve batte 1-0, la viola e allunga l'altro fede, l'altro fede, nel senso che Federico Chiesa, oltre che Federico Gatti, colpisce ancora, quindi l'altro Federico, in questo caso riferito a Gatti, che segna il quarto gollo con la Juve. Impresa Cagliari, Atalanta K.O., in Bologna pareggia, a Frosinone, poi riecco il Napoli dello Scudetto, anche sul core dello sport. Poi su tutto sport, Juve, Graffio Champions, Gatti, quarto gol pesante, Fiorentina domata, più quarto sul Bologna. E poi parliamo di tennis in alto, bentornato Matteo, riferimento a Matteo Berrettini, che rinasce a Marrakesh, dopo quasi due anni, rivince un torneo. Sul quotidiano sportivo, queste Juve, sette vite come i gatti, e c'è la foto di Federico Gatti, che appunto ha deciso la partita con la Fiorentina, quindi penso che vince 1-0, con solo del terzo posto in classifica, quindi una vettore importante, in chiave qualificazione, alla prossima Champions League, che è stato più volte ripetuto, anche dallo stesso tecnico della Juve Allegri, è l'obiettivo principale di questa stagione per la Juventus. Concludiamo, come ho detto, con lo sport anche sui quotidiani regionali, partendo da Gazzetta del Sud, che nell'edizione di oggi parte con lo sport di respiro nazionale, e quindi con il campionato di Serie A, Cortomuso, Cortomuso Juve, quindi scrive Gazzetta del Sud, poi Gatti stende la viola, rinascita Napoli, e andiamo alla Serie B, Catanzaro, l'entusiasmo è la nota libera, scrive Gazzetta del Sud. Sulla Serie B c'è anche riferimento al Cosenza, un'altra pagina, Cosenza, il problema adesso è la difesa, scrive Gazzetta del Sud. Poi in Serie C deriva Crotone, KO anche col Brindisi, illusorio il gol del dischetto di Tuminiello, Falbo e l'extrotta firmano l'impresa, quindi Crotone che perde in casa, contro il Brindisi per 2-1. Poi Vibonese, Caffo apre a Bandecchi, 100 mila Euro di sponsorizzazione, Serie D, Locri guarda avanti con fiducia, poi Serie D, colpo Regina, Barillà blinde playoff, Regina che vince in trasferta contro il Real Casalnuovo con una rete di Barillà. Prova autorevole della squadra Maranto che si impone in casa dell'ostico Real Casalnuovo con un gol del capitano, Barillà al 76esimo, sempre in Serie D, al Castrovillari, la palma del migliore, Castrovillari che batte il San Luca 2-1 con una doppietta di palma. E poi andiamo all'eccellenza, il San Biase rinvia la festa, la Vigo non si arrende, la capolista fermata sul pari della Reggio Ravagnese non ha ancora la certezza matematica del salto in Serie D, la Vicola Mezzia vince, ora si porta a sei punti di stacco, non mancano tre giornate alla fine del campionato. scorriamo le altre pagine dello sport di Gazzetta, andiamo alla Formula 1, Verstappen esulta, la Ferrari c'è, col quarto posto di Leclerc, le rosse principali antagonista del campione in carica, Verstappen. E poi anche qui riferimento alla vittoria di Berrettini, parliamo di tennis, Berrettini ritrova la strada del trionfo, sono felice dopo anni molto difficili, il romano a Marrakesh piega in finale Carballes-Baehia, e ora va a Monte Carlo dove Musetti ha battuto Frizz, si qualifica Nardi, non sonego. Poi ancora su Gazzetta parliamo di tennis, la Viola Reggio Calabria ritorna in corsa ad Angri, questo era sempre sullo sport di Gazzetta del Sud. Andiamo allo sport del quotidiano del Sud, anche qui la Serie A, la Juve torna a graffiare con Gatti, tre goli annullati alla Juventus, Vlaovic, due goli sono stati annullati a Vlaovic, uno a McKennie, i bianconeri si riportano a più 4 sul Bologna, e nel prossimo turno c'è il derbitra contro il Torino, vince anche il Napoli, 4-2 a Monza, colpo salvezza per il Cagliari, che beffa l'Atalanta, quindi Cagliari che batte in casa l'Atalanta per 2-1. Andiamo alla Serie B sulle pagine del quotidiano del Sud, Catanzaro, la svolta non è arrivata, i giallorossi dopo il K.O. Colcomo, abbandonano il sogno della promozione diretta, dopo i primi 45 minuti di grande calcio, nella ripresa è calata vistosamente l'attenzione. Serie B, Cosenza ancora, è l'ora di ricompattarsi, squadra, club e tifosi chiamati a rimanere uniti, svelato il mistero delle maglie diverse, il pareggio con la Ferral-Pisalò porta fiducia, ma adesso bisogna puntare il Palermo. In Serie C va male, va male il Crotone, che oggi è questo titolo eloquente sul quotidiano del Sud, Crotone, Sprofondo, Rosso-Blu, Tumminiello, Illude, poi il pari di Falbo, il gol, vittoria, ospite dell'ex Trotta. Gli squali perdono in casa anche contro il fanalino di coda, Brindisi, questo era appunto sul campionato di Serie C. In Serie D, Regina, 3 punti per i play-off, dicevamo, vittoria con Real Casanovo, poi c'è stato il big match ieri nel campionato di Serie D, Trapani batte Siracusa 1-0, quindi il Trapani ormai, insomma, segnato al quinto e secondo tempo balle, il Trapani che è ora in classifica è a 82 punti contro i 66 della seconda Siracusa, per cui la Serie C ormai non sfuggirà certamente al Trapani che ha dominato praticamente questo campionato di Serie D. Serie D dunque palma a trascine il Castrovillari, la vittoria contro il San Luca del Castrovillari 2-1, la fiammella della speranza per la salvezza resta accesa per il Castrovillari dopo questa vittoria, poi volley serie a 2 femminile, l'ultima è una sconfitta in casa dell'Ecco, del Soverato. e anche sul Quotidiano del Sud si parla di Formula 1, vince Festape davanti a Perez, a Suzuka le Ferrari sono terza e quarta. Il San Biase rallenta, ma è nella storia, quindi parliamo di eccellenza, Giallorossi a 910 minuti senza subire reti, il Reggio Ravagnese fa una bella figura, la capolista rimanda alla promozione, però stabilisce il record di imbattibilità, e quindi manca ancora la matematica per il San Biase, mancano tre partite, la Vigola Mezzi accorcia a sei punti dal San Biase, la Vigola Mezzi che ritrova la vittoria, batte il Bocale per 2-1, nonostante i problemi in difesa, i bianco-verdi di Fanello conquistano i tre punti, Villella e Bernardi colpiscono il Bocale, che rimane in gara con Nicolao. Il Soriano batte il Cittanova nel finale, e può alimentare il sogno play-off, infatti Soriano è terzo in classifica, ha 9 punti di stacco dalla Vigola Mezzi, se dovessero rimanere massimo 9 punti di stacco, Soriano disputerebbe la finale play-off regionale, proprio contro la Vigola Mezzi, se poi dovessero essere più di 9 punti, la fase regionale play-off non si interessa, questo prevede il regolamento. Nel campionato di promozione, girone B, brutta sconfitta dell'Atletico Maida ad Ardore, Ardore batte Atletico Maida 5-1, quindi pesante sconfitta per la formazione, la metina dell'Atletico Maida. Per lo sport andiamo anche alla calcio a 5 maschile, campionato di serie A2, sconfitta a Palermo, ora testa al Bitonto, sabato prossimo in La Mezzia chiude in casa la regular season, parliamo di calcio a 5 maschile. Nella tennis invece Roberto Asciotti del Viola Tennis La Mezzia, qualificato al Foro Italico di Roma, il Lamettino infatti passa al Master di quarta categoria, che si terrà al Foro Italico di Roma. Con lo sport come sempre abbiamo concluso anche per quest'oggi il nostro nuovo appuntamento con i giornali TV. Tutto da Pascualio Rettura, grazie per averci seguito, ci rivedremo per la prossima edizione. Lascia il tuo segno. Fuggi lontano da ogni schema. Guarda più avanti degli altri. Nuova EQA 100% elettrica. Scelta distintiva.